Io credo che Nogarini innanzitutto debba fare i conti con la propria maggioranza se ancora ce l'ha. Se ha una maggioranza è giusto che governi, se invece la maggioranza non ce l'ha e la maggioranza non si fa solamente nella scelta del Presidente del Consiglio Comunale ma anche negli atti più importanti. Io quello che vedo è che la città ha perso la guida e a me quello che più dispiace è vedere che un pezzo importante allo sviluppo del nostro territorio sia senza una guida, senza una guida politica. E quindi chiedo a Nogarini di fare davvero, anche se non spetta a me, una verifica interna seria. Se ha la possibilità continui a governare per il bene dei cittadini di Livorno, se non ha la possibilità si torni a votare il più breve tempo possibile.